Musica Buongiorno a Maestoni e oggi siamo qua a vedere il progetto definitivo della linea tramviare T2 Ovviamente il documento è stato approvato il febbraio del 2019 e bella rimovita dal me Praticamente adesso vedremo le situazioni principali che dovremmo parlare Per vedere come potrà cambiare la nostra linea tramviare di Bergamo Quindi iniziamo Allora prima di tutto vediamo prima le statistiche degli anni e dei passeggeri totali In cui la linea T1 quando è stata aperta nel 2009 ha fatto molto successo Tipo come vedete qua nell'anno 2009 il numero dei passeggeri era 1.500.000 E nel 2018 sono stati 3.750.000 Con un totale sommando tutti gli anni che vedete lì e i passeggeri Di 32.500.000 passeggeri all'anno Nel giudizio complessivo ovviamente Qui come si dice qua il servizio tramviare fra Bergamo e Albino Ha migliorato la qualità della vita dei cittadini nel territorio Nel 2018 sono stati trasportati circa 3.75.000.000 di passeggeri Cioè di cosa stiamo parlando Allora qua invece c'è tipo una Tipo dei giudizi Sul tantissimo Tipo L'affidibilità del servizio 7.9 Disponibilità del servizio 8 Informazioni 7 Tempo di viaggio 8 Perché non mi sembra tipo mezz'ora 20 minuti Mi sembra 25 minuti Mi sembra mezz'ora si Rapporti con l'utenza 7.1 un po' scarso Il comfort diciamo che ok 6.8 La sicurezza è abbastanza alta con 7.5 L'impatto ambientale Ragazzi guardate è un 8.1 Supera anche il disponibile del servizio Ragazzi Secondo voi quando riusciranno ad attivare il T2 Secondo voi cosa succederà a Bergamo E c'è anche scritto qua Elevati sono stati nel corso del 2018 Indici di affidibilità e puntualità del servizio tramviario Espresso dalla clientela della linea T1 Relativamente ai principali fattori di qualità servizio Quindi ragazzi Diciamo che Già adesso vi dico la mia opinione La T2 secondo me sarà un vero successo Visto che potrebbe anche Potrebbe anche sgombrare il traffico Per andare su a Villa del Me Dalle superstrade secondo me Allora adesso vediamo la linea T2 Bergamo Villa del Me Allora ci saranno 17 fermate Che ci saranno 3 fermate in comune Della linea 1 Cioè Bergamo FS Borgo Palazzo e Bergamo San Fermo Dopo lì si staccherà dalla linea T1 Allora Ci sarà Bergamo Bronzetti Borgo Santa Caterina Bergamo Stadio Anzi Dopo il Borgo Santa Caterina Ci sarà il Bergamo Reggiani Poi Bergamo Stadio Che era nella fermata dello stadio dove c'era In curva nord mi sembra De Gasperi Croce fisso Bergamo San D'Antonio Sarà l'ultima fermata a Bergamo Poi ci saranno le fermate a Ponte Lanica Cioè Ponte Secco e Ponte Lanica Ci sarà quella Sorrisole Cioè Ramera Gress e Petosino Almè Paladina e Almè Volta Villa Dalmè Villa Dalmè Mazzi E Villa Dalmè Capolinia Praticamente il percorso della linea T2 Da Bergamo a Villa Dalmè Si sviluppa sediamente sulla Ezra Ferrovia della Valle Bambana Come all'RT1 della Valle Seriana inaugurata nel 2009 L'altra via attraverso 5 comuni E interessa una popolazione di oltre 240.000 abitanti Con vabbè 7 fermate Due a Bergamo Due a Ponte Lanica Due a Sorriso Due a Dalmè E due a Villa Dalmè Il progetto della linea T2 Prevede la Ah la predizione di due Unteriori fermate Bergamo-Reggiani e Gress L'eventuale attivazione prevista Quello che ho avuto all'interno Di qualificazione urbanistica Le regali servite dalle fermate Praticamente da Bergamo-Reggiani Come c'è scritto lì Sarà come scritto qua Poi come vediamo qua Allora la linea Avrà una velocità massima È 70 km orari Quindi il percorso sarà lungo 11,5 km E da E praticamente dove Da Bergamo-Stadio Come si è scritto qua Ci sarà un sottopasso Perché ragazzi Perché Vabbè Diciamoci la verità Perché altrimenti C'è Ci sarà un casino Per ogni volta Andare allo stadio Poi c'è un sottopasso A Bergamo-Sant'Antonio Delle nuove gallerie A gallerie Da Ponte Secco A Ponte Lanica Poi ci sarà Vabbè Il ponte sull'Urino Dove c'è Villa dal Il capoligna Adesso qua ci saranno tutti Ecco Il tracciato La linea T2 È lunga Ovviamente 11,5 km Invece la T1 È di 12,5 km Praticamente Quasi la stessa Lunghezza E per il 95% Del percorso Si sviluppa Come un percorso Per effettuare La sede protetta Ovviamente Lunghe il tracciato Vabbè Avevamo già detto Che 23 23 attraverso Il terraso Tra strade E pendolari Unice a Bergamo Ponte Lanica Sorrisole Alme E Villa Dalme 1 Qua ci sono tipo Il 23 attraversamenti Cioè Unice a Bergamo 3 a Ponte Lanica 1 a Sorrisole 7 a Dalme E 1 a Villa Dalme Il tempo E percorrenza Sarà ancora 30 minuti E la tensione Della linea Sarà di 750 Volt E lungo il tracciato Sono previste 6 nuove Sottostazioni Elettriche Tutto il tracciato È ovviamente Dopo il binario Con esclusione Della già esistente Galleria Aramea Fermata Ponte Lanica Del ponte Storico Sul terrenterino Fermata Della Villa Dalme Che ovviamente Sarà Il Il capolinea Villa Dalme Poi Lungo il tracciato Verranno realizzate Alcune nuove gallerie Fermata Di ponte secco Sofra passi Come La fermata Di Sant'Antonio E il sottopasso Che avevamo già parlato Per Bergamo Stadio Per così Del tram Il proseguire Sul percorso Del tracciato Adesso Vediamo tutte Le tecnologie E i mezzi Allora Come finite qua Vedete Anche da questo bullino Ci saranno 25 tram Che andranno In Nelle linee Vedete Unici tram Per la parte T2 E per la T1 Ci saranno Ovviamente I 14 tram Che fanno In tutto 25 Ci saranno Vabbè Sede deposito A Rannica E un nuovo deposito A Petosino Cioè A A A A A Cos'era Non mi ricordo Aspetta che vedo Ragazzi Ragazzi Perché Vabbè Sì A Ponte Rannica Giusto Petosino Petosino Ponte secco Non mi ricordo Forse sì No è più avanti Non mi ricordo Ragazzi Scusatevi Allora I tram Unici tram Una scorta di esercizio E una scorta Per la manutenzione Lunghi 32 metri Con una capacità massima Di 239 Passeggeri Ragazzi Si Integrano Ai 14 Della linea T1 Che ovviamente Sono Di 25 In tutto Ne entrambe Le linee La velocità Massimo Di 70 km Orari Nel tratto Più urbanizzato Tra Ponte Rannica E Bergamo È di 50 km Orari Che scendendo Ai 15 In prossimità Dei attraversamenti Stradali Ovviamente Sede Deposito E CCO Lungo la linea 2 Come detto prima Viene realizzato Un nuovo deposito In prossimità Della fermata Di Pottosino Per il ricovero Lavaggio E pulizia Di massimo 10 tram Il centro Controllo Operativo Che è a Rannica Che sapete già Già sede Deposito Ufficiale Della linea T1 Rimane Il cuore operativo Di entrambi I servizi Trambiari Ovviamente Allora Adesso Vedremo Tutte Le caratteristiche Del servizio La prima corsa Ovviamente Sarà alle 6 Viaggi Ogni 15 minuti Viaggi Ogni 6 7 Viaggi Ogni 6 7 Minuti Diciamo Nelle ore Di punta 15 15 Mila E 64 Passeggeri Al giorno In tutto 1700 km Al giorno Ovviamente Feriali Scolastico Incluso Con l'ultima corsa Alle 21 E 30 Sì ragazzi C'è Diciamo la verità Perché altrimenti Qua diventerà Una zona Perché anche Altri tram Dovrebbero Ritornare Dopo Al Due posizioni Del deposo Sarebbe un casino Troppo tardi Come detto qua I tram Viaggiano Secondo Orario invernale Estivo Dal lunedì A vendersi Sabato Sabato E festivi Come la T1 E si è previsto Per le ore 6 Fino alle 21 E 30 Come vedete qua L'orario invernale Nei giorni feriali Scolastico I tram Viaggiano Ogni 15 minuti Con intensificazione Fino a 6 7 minuti Ovviamente Quando ci sono Le ore scolastiche Poi I orari festivi I tram Ogni 15 minuti Nei giorni feriali 30 minuti Nei sabato E 20 minuti Nel pomeriggio E nei festivi Passeggeri Corse E chilometri Allora Ci saranno Allora Nell'ora di punta Con tipo I tram Occupati All'82% Si stimano 15.064 Passaggieri Al giorno 150 Corse E 1700 Km Per corso Al giorno Per un totale Di 500 Km All'anno Cioè Ragazzi Poi qua c'è scritto Festivi Per il periodo Di agosto Un tram Ogni 30 minuti Poi ci saranno Gli interscambi I parcheggi Di piste ciclabili Allora Ci saranno 7 parcheggi Con 900 posti La linea Che vedete qua La bici È Di 9.840 Di pista Ciclopedonale Queste due Queste tre Fermate Faranno Dove ci sono I parco Dei colli E La ciclopedonale Finirà ovviamente Avila dal me Poi Durante Praticamente qua Dopo le zone Cittadine Ci saranno Tanti sei parcheggi Come c'è scritto Anche qua Rete integrata Far servizi Tra un viaggio E servizi Di trasporto Pubblico Nell'area urbana Linea E bus Nei 30 comuni Intorno al capoluogo EZ Strada urbana Nella valle Brembana E valle magna 7 parcheggi Di scambio 21.700 metri quadrati Per 900 posti auto Una pista Ciclopedonale Che avevamo già vista Che per la larghezza 2,5 metri E lunga 9.840 metri In connessione Con la rete Ciclavi esterne Il percorso Ciclopedonale Consetterà L'accesso alternativo Alle fermate E un collegamento Con i centri urbani Attraversati Dalla linea Trambiari All'ogni fermate Sono previste Stagli per biciclette E ciclomotore Tra la fermata Di ramera E paladina Come si vede qua C'è il parco Dei colli I tramo Fiancheggio L'aria naturalistica Del parco Colli Costeggiando L'aria verde A sud Centri abitati Del nord A nord Allora Qui invece Sono i tempi Di fare Allora Progettazione Definitiva D'esecuzione Ok Abbiamo già fatto Dal 2020 Inizio Quasi A fine 2021 La decisione Poi Espor Allora I soluzioni Interferna Hanno già fatto Poi Affidamento Ai lavori Già fatto Nel 2022 Fono in turno Del materiale Rotabili Praticamente Qua quando inizieranno I lavori Nel 2023 Fino al 2025 Poi Esecuzione Dei lavori A tipo A metà Diciamo A metà Giugno Fino All'inizio 2025 Poi Collario Per esercizio 2025 Però Abbiamo già Visto Che Nell'ultima Pubblica Sarà Nel 2026 E Avvio Del servizio Ovviamente Nel 2026 Come abbiamo già visto Da questo simpatico tram Allora ragazzi Adesso andiamo a vedere I risultati Che Farà Questa T2 Allora Come c'è scritto qua Ovviamente Ci saranno 45 passeggeri In più Più 4 Trasporti pubbliche E 26 milioni Di chilometri Di traffico In un anno E 55% Di passeggeri Che andranno A Bergamo E 55 passeggeri Che andranno A Villa Che vanno Verso Villa Dalmè Come c'è scritto qua La legge di munizione Dei passeggeri 2035 2020 E 2050 Dovuta All'attivazione Di nuove Infrastrutture Come questa Ovviamente La direzione Di spostamento Sono omogene Nel loro La di punta Ma tutti A 55 Dei passeggeri Di chilometri Tra che si muove Verso Bergamo Invece Come detto Prima 45 Si spostano Nella direzione Opposta Grazie Alla conversione Con la nuova Tramvia Migliora Il più 4% Di alcune linee Di esporto Pubblico Dall'alta Valbermano E Valimagna E la linea TB 7, 9 e 10 E si deduce Il numero Di veicoli Chilometri Privati Cioè L'auto Al 2025 Si stimolo Circa 26 milioni Di chilometri In meno All'anno Di traffico Privato Cioè Ragazzi Qua L'inquinamento Scenderà E come Scenderà Bergamo Allora Adesso Vediamo I piani Economici E finanziari Allora Dato fondamentale Il PEF Il piano Dei investimenti Periodizzato Relativo Agli anni Il numero 19 Il numero 24 Allora Qua ci sono Il costo Del progetto T2 Allora Importo Dei lavori 125 milioni 300 mila Opere civili E impianti 89 milioni 224 mila Oneri Per la sicurezza 4 milioni 100 mila Veicoli Cioè In tutto 11 Che devono Essere Consegnati 33 milioni Somme a disposizione Spese complessive Dalla realizzazione 33 milioni 800 mila Opere compensate Il monitoraggio Cioè Monitoraggio Per l'ambiente 400 mila Imposte Dall'IVA 19 milioni 100 mila Costo complessivo Di 178 milioni 600 mila Cioè Un costo Abbastanza elevato Diciamo Qua Gli indicatori Come c'è scritto Costituzione Lunghezza Per i Costi materiali Notabili Allora Costi di costruzione 80 80 80 milioni 300 80 Questo Ma Aspetta Aspettate Un momento 80 milioni 300 1224 Mila Non so Se l'ho letto Giusto Però Mi sai No Kilometri 11,5 33 milioni Forse qua È sbagliato Perché Hanno aggiunto Un altro Numeri Secondo me È 800 8 8 8 8 103 Milioni 224 Mila Hanno sbagliato Qua Poi Vabbè Costi complessivi 171 Milioni 176 Mila Ovviamente L'astiliscolo C'è il costo I costi Di costruzione Ad Insecuzione I costi Del Deposito E D'operazione Complicemente Invece L'altro Due Che Costi Complicivi Ad Esclusione Dei costi Per la Sicurezza Ed Propri Adesso Passiamo All'ultima Fase Analisi Costi Benefici ACB L'analisi Dei costi Benefici Condotta Seconda La Metodologia Del MIT Per i progetti Del TPL Misura E confronto I costi Benefici Sociali Compressivi Quelli Non Monetari Come Il tempo Spammiato La riduzione D'esternalità Costi Benefici Sociali Riduzione Della Congestione Sulla Rete Stradale 50 Madonna Mia 5 Oddio 50 Non so se si dice Miliardi Mi sembra 50 Miliardi 224 547 Mila C'è Dei costi Veramente Molto alti 3 321 131 Euro Riduzione Degli incidenti Stradali Riduzione Delle emissioni Inquinanti Del traffico Stradale Oh scusate Ho sbagliato Scusate Ho sbagliato Stavo dicendo Riduzione Delle emissioni Inquinamento Del traffico Stradale 3 322 849 Euro Riduzione Delle emissioni Acustiche 4 4 Miliardi 858 395 Riduzione Delle emissioni In gas Che concorrono Allo Il scaldamento globale C'è Guardate Guardate La cifra Ragazzi Praticamente Questo progetto Ci vuole Questo progetto Ci vuole Qua a Bergamo Quindi ragazzi Come si è scritto Qua Il progetto Dallina 22 Vila dal me Risulta Sostimulare Entrami Scenari Da CRA 9 E CRA Sostimulare Economicamente Sempre risultato Sordi Di 35 Copertura Di costi Gestione Il rapporto Benefico Costi Sociali Maggiore Di 1 1 86 Quindi I medici Sociali Sono maggiormente Dei costi Teb Sta Facendo il futuro Delle tramvie elettriche Bergamasche Quindi ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Arriviamo A 10 like Se non siete Con iscritti Iscrivetevi Determine Vi ricordo che In iscrittura C'è sempre Il nuovo instagram Per andare a vedere Le cose che pubblico Ogni giorno Quindi ragazzi Con questa Linea Tramvia Due tv Bergamo Forza Teb Speriamo Che Entri Funziona Per fare bene All'ambiente Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi